Buonasera da Stefano Ballerini, poi questo servizio che ho voglia di fare perché è successo un caso molto brutto qualche settimana fa e oggi è arrivato la bocciatura del ricorso di cui sto per parlarvi, per cui ringrazio anche Zio Stix, Stefano Regine, Dicola e Bana Show per quello che poi lui vorrà e potrà fare a compendio domani quando noi ci vedremo per lavorare a Portoferraio, faremo un dibattito a due voci. E allora io vi leggo l'antefatto, intanto do la buonasera a Enrico Milano che da regia il remoto poi vi manda, intanto il filmatino di cui noi stasera vogliamo parlare, ricordo il fatto è relativo a qualche settimana fa, derby di seconda categoria al Carburo Lupi di Portoferraio, audace Isola d'Elba, campese finisce 1-2, ad un certo punto della ripresa c'è un giocatore dell'audace che va a terra, travolge un giocatore della campese, l'arbitro lì per lì, il signor Pisano di Livorno, attenzione, non interrompe il gioco, dalla panchina della campese Gianni Gassinelli cerca di richiamare l'attenzione dall'arbitro, l'arbitro lì per lì non interviene, Gassinelli mette due piedi in campo, due, credo da lontano, ora non so se il computer di Zio Stix abbia una metratura, qualcosa su cui misurare i passi di Gassinelli in campo, però l'arbitro nel referto arbitrale lo accuserebbe di essere entrato per 20 metri in campo, non è vero, le immagini sbugiardano tutto, è l'arbitro che va incontro a Gassinelli e non l'incontrario, Gassinelli si protesta, questo lo ha ammesso, protesta, alza un po' i toni, ma voglio dire se ne vedono ricotte di crude di peggio, l'arbitro scrive nel referto che Gassinelli le avrebbe appoggiato la mano tra il braccio e la spalla, negativo, non è mai successo niente di tutto ciò, nello screen, quando voi lo vedrete, adesso è panno verde per chi intercette immediatamente questo servizio della nostra redazione, ma poi appena questo servizio verrà prelevato da Enrico Milano, su questo screen scorreranno le immagini e poi vedrete l'intervista di Gassinelli. Allora, intanto, quello che scrive l'arbitro, questo è il ricorso della campese calcio avverso la squalifica Gassinelli per la cronaca, è stato squalificato fino al primo gennaio del duemilaventicinque, pensate, per non aver commesso nient'altro che aver alzato un po' i toni, ma tutto quello che ha scritto l'arbitro è stato regolarmente sbugiaddato. Poi la considerazione. Oggetto stagione sportiva duemilaventiquattro-venticinque, ricorso avverso la squalifica dell'allenatore signor Gassinelli Gianni durante la partita di calcio di seconda categoria girone H tra Audaci, Isola d'Erba e Campese 1969 del giorno 29.09.2024, fine settembre. Spettabile commissione disciplinare, con la presente la società ASD Campesi 1969, in nome e per conto del proprio presidente signor Marco Petrocchi, intende presentare formale ricorso avverso la squalifica combinato al proprio allenatore signor Gianni Gassinelli con provvedimento di squalifica valido fino al 3 gennaio 2025, ottobre-novembre-dicembre, tre mesi e qualche giorno. La sanzione è stata inflitta per presunte infrazioni durante la gara in oggetto secondo quanto riportato nel bollettino federale con la seguente motivazione, allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco. Va bene, due metri, due. chiedo a Zero Six se nel suo computer delle nostre riprese ci sia la possibilità di avvalersi di un misuratore di distanza tra la linea laterale della panchina e quanti metri, credo non più di due, Gassinelli abbia percorso in campo. allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco sin ad avvicinarsi al direttore di gara e Rata Corrige è il direttore di gara che va verso Gassinelli, le immagini avvalorano tutto, per protestare con vehemenza appoggiandogli una mano sulla spalla e rivongendogli offesa. Allora, mano sulla spalla? Mai! Sul braccio gliela mette Giacomino a Lori, l'arbitro sorride, a Lori sorride per minimizzare quello che stava succedendo. La società ritiene che tale descrizione non rappresenti fedelmente quanto accaduto in campo e a supporto della presenta istanza fornisce una ricostruzione più precisa dei fatti corroborata dal filmato realizzato durante la partita da un servizio sportivo locale denominato Ericola Elbana, allegato a questo ricorso. La nostra diretta del derby, audace Isola d'Elba, campese, vinto dalla campese 2-1. La ricostruzione dei fatti è questa. Durante lo svolgimento della partita, un giocatore della campese 1969 allenato dal signor Gianni Gassinelli è caduta a terra urlando per il dolore dopo uno scontro aereo con un avversario portando le mani al volto. Il giocatore in questione aveva subito un intervento chirurgico all'orbita oculare nel febbraio della scorsa stagione. Il giocatore dell'audace che lo aveva colpito era Fusai, capitano. Proprio a seguito di uno scontro simile alla paura di recidiva è stata immediata. L'arbitro signor Pisano della sezione di Livorno ha tardato a fischiare e interrompere il gioco causando le vehementi proteste dell'allenatore della campese Gassinelli il quale gli chiedeva semplicemente di fermare l'azione per permettere ai sanitari di assistere i propri giocatori. Solo dopo che l'arbitro ha finalmente fischiato Gassinelli ha fatto un passo indietro. Ripeto, se voi guardate attentamente le immagini e poi dopo averle fatto scorrere alle mie spalle visto che io copro un po' lo schermo e ricominando da Brav ve le ripropone e poi vi mando anche l'intervista di Gassinelli che abbiamo realizzato oggi a commento di quanto è successo. L'arbitro si sa il quale gli chiedeva di fermare l'azione per permettere ai sanitari di assistere i propri giocatori. Solo dopo che l'arbitro ha finalmente fischiato il signor Gassinelli ha fatto un passo all'interno del campo ma è rientrato immediatamente nella propria area tecnica. A seguito di ciò l'arbitro ha deciso di espedere l'allenatore correndo verso di lui per mostrargli il cartellino rosso. Solo a quel punto Gianni Gassinelli ha protestato discutendo con vemenza e qualche parola è volata ma voglio dire non l'hai toccato e le immagini sbugiattano il povero signor Pisano. Gassinelli ha ammesso di avere un po' alzato i toni ma tre mesi e qualche giorno di squalifica per aver alzato i toni dove si vede giocatori di serie A, serie B, serie C mandare palesemente l'abito a quel paese e prendere un massimo di tre giornate a esagerare voglio dire solo a quel punto il signor Gassinelli ricordo ha detto ha protestato discutendo con vemenza ma senza mai ricorrere ad offese o atteggiamenti minacciosi come riconosciuto dagli stessi giocatori presenti sul campo e dallo stesso Gassinelli che ha ammesso di aver alzato e detto qualche parola è importante sottolineare che come evidenziato chiaramente dal video allegato la mano posta sulla spalla dell'arbitro o voglio dire fine braccio non è stata mai quella dell'allenatore bensì di un giocatore della campese Giacomino Allori, il mio amico il signor Gassinelli pur discutendo in maniera decisa non ha mai superato i limiti del rispetto nei confronti dei direttori di gare inoltre la mano sulla spalla non è stata interpretata dall'abito come un gesto pericoloso quello di Giacomino Allori tanto è vero che i due ridevano tanto che non è stato preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore che ha compiuto tale gesto conclusione alla luce di quanto sopraesposto la società campese in 1969 ritiene che la decisione dell'abito di aspegnere l'allenatore possa essere anche comprensibile l'allenatore non deve mai entrare in campo e non deve ovviamente protestare e va bene ma che la ricostruzione riportata nell'effetto abitale contenga inesattezze l'avessero fatto come me altro che quello di corso e quant'altro inesattezze che hanno portato ad una stazione eccessiva rispetto 3 gennaio 2025 tre mesi e qualche giorno non si sono mai viste nemmeno davanti a ben altre cose che vediamo dalle riprese di Mamma Rai del campionato di Serie A Serie B e le riprese anche del campionato della piattaforma di sci in particolare non sussistono le prove che il signor Gassinelli abbia appoggiato la mano sulla spalla dell'abito ne abbia rivolto offesa al direttore di gara pertanto si richiede all'aspettabile commissione disciplinare di riesaminare la squalifica alla luce della presente ricostruzione delle prove video il nostro possesso nella convinzione che la sanzione possa essere significativamente ridotta ringraziamo per l'attenzione restiamo in attesa del cortese riscontro cortiare saluti campese 1969 il presidente il mio amico Marco Petrocchi arriva dopo tre settimane dove attendevamo notizie arriva il riscontro della giudicante reclamo proposto dalla società campese in opposizione al provvedimento assunto dal GST a carico del testerato Gianni Gassinelli referto 26 del 310 2024 propone rituale reclamo la società campese 1969 avverso la sanzione dell'oggetto combinata dal giudice della Toscana con la seguente motivazione allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco sì due metri non di più sino ad avvicinarsi al direttore di gara per protestare con vemenza poggiando la mano sulla spalla e rivolgendo gli offesi allora voi potete vedere nelle riprese io era a commentare la partita per cui sono testimone visivo se vogliono possono convocarmi non è mai un problema è l'arbitro che corre dal signor Gassinelli non Gassinelli che corre verso l'arbitro è chiaro perché la mamma gli occhi ce l'ha fatti i buoni il giornalista non deve mai raccontare bugie voi vedete dietro di me e poi ve le faremo vedere tranquillamente senza la mia persona qui davanti tutto quanto in seconda istanza con rituale tempestivo reclamo la reclamante chiede una riduzione della sanzione affermando che il signor Gassinelli allenatore della compagina è rientrata solo per un passo dentro il terreno di gioco un passo abbondante due mesi al massimo ok due metri al massimo dentro il terreno di gioco preoccupato per le condizioni di salute di un proprio calciatore vittima di uno scontro di gioco ed a causa del ritardo con cui il direttore di gara aveva interrotto il gioco per prestare le cure del caso ok precisa che le proteste vemente dell'allenatore erano palesate solo successivamente al momento dell'espulsione esagerata voglio dire ma senza tali proteste sfociassero in offese nel tanto momento in contatti sulla pressione del direttore di gara afferma che allegando video che testimonierebbe il fatto che testimonia non testimonierebbe testimonia il fatto visto che gli apparati in uso a edico l'Ebana Show Vagra Sport di Geostix Stefano Regini li abbiamo solo noi con tutte le possibilità di fare anche il fermo frame e vedere la moviola immediatamente da due posizioni per cui questa tecnologia se posso dirlo raramente si vede sulla piattaforma della serie C va bene? può bastare? credo di sì allora eh afferma che allegando il video che testimonierebbe il fatto dunque che la mano posta sulla spalla dell'abito non sarebbe quella dell'allenatore ma di un giocatore della Campese del quale peraltro non si fornisce il nome ve lo dico io Giacomo Allori Giacomino Bumbum Allori mio amico persona deliziosa e che toccando l'avambraccio del direttore di gara i due si sono anche messi a zitere l'un con l'altro ok? per cui nessuna sanzione nemmeno Giacomo Allori ok? eh la cast che è il la commissione giudicante esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere ed è una vergogna il reclamo stesso si premette che il video allegato non può essere utilizzato nel caso di specie sia perché non viene fornito il nome del presunto autore del fatto sia perché non rispondente a requisiti tecnici previsti dal CGS c'è una un sito perché edicola Erbana Sport è un sito www.edicolaerbanasport.org poi tutto ciò viene tramutato in servizio televisivo in diretta sul canale 187 di Firenze 187 di Firenze Viola Super Sport Firenze Sport 1 canale comunitario nelle zone di Firenze Prato Pistoia Certaldo Empoli Campi Bisenzio Sandonnino e Poggio a Cagliano con una chiaro per cui io posso trasmettere lì e lì trasmettiamo per cui è sito e televisione la mia televisione ok bene l'abito nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte doppiamente bugiardo il signor Pisano è sbugiardato dalle riprese televisive dal mio commento è chiaro e dalla mogiola del mio amico zio Stix Stefano Regi ok bene confermando altresì di essere assolutamente certo che il lieve contatto sulla spalla sia stato ad opera del signor Gassinelli e non di un'altra persona barra giocatore della campese anche perché i giocatori gli altri componenti della panchina erano ben distanti dall'allenatore in tale frangente Giacomo Allori era in campo avrebbe siglato lui il gol dell'1 a 1 su rigore il gol del 2 a 1 la vittoria della campese per cui nessun giocatore della panchina ma Giacomo Allori che era già in campo ok per cui voglio dire è tutto errato è tutto non attinente alla realtà dei fatti dimostrati dalle nostre immagini e dal nostro commento in diretta conferma che il contatto è stato causato da un gesto di lieve entità privo di connotati violenti e quasi canzonatorio conferma altresì che il signor Gassinelli è entrato per circa 20 metri all'interno del treno di gioco altra bugia altra bugia al massimo due metri ma forse per centimetri anche meno due passi poi è tornato oltre la linea laterale è tornato in panchina poi è stato espulso dal signor Pisano allora uscendo dal campo Gassinelli si è lasciato andare a qualche pitote ma non è vero i 20 metri il signor Pisano se li è testualmente inventati ed è stato sbucciadato a me non piace per partito preso essere preso per stellino perché noi toscani siamo trenaricciuti e quando qualcuno pensa di fare il furbo noi diciamo che ci prendono palesemente per stellino non è vero signor Pisano riguardi se vuole gliele mandiamo non è un problema poi però si parla di chi ha visionato le immagini eppure essendosi accorto che le immagini sbucciardano in tutto e per tutto il referto arbitrale si sarebbe dovuto fare ammenda chiedere scusa il signor Gassinelli ha già scontato tre giornate di squalitica bene dal match di domenica il signor Gassinelli sarebbe dovuto rientrare comodamente in panchina non avviene rimarrà fuori ai primi di gennaio ragazzi ve lo dico io che seguo la squadra e ne sono l'addetto stampa noi vinciamo il campionato salutiamo la compagnia e ce ne andiamo in prima categoria è chiaro lo dico adesso poi se il pallone rotola in qualche altra maniera io non ho la sfera di cristallo però per quello che sono quello che mi va di dire per quello che vedo con i miei occhi tutti i weekend questa è la realtà ok? per cui signor Pisano gliele mandiamo ci dia l'indirizzo signor Pisano gliele mandiamo le immagini e lei domani mattina facendo gentilmente la barba dovrà dirsi allo specchio farsi una domanda probante e darsi qualche risposta probante chiedere scusa perché così significa ledere l'onorabilità di Gianni Gassinelli chiaro? è chiaro? o non è chiaro? bene conferma che il signor Gianni Gassinelli è entrato per circa 20 metri all'interno del terreno di gioco ha proferito le offese già riportate nel rapporto di gara ed ha tardato l'uscita dal campo dopo l'espulsione esaminando la congruità della sanzione questa corte di Siene che sia stata determinata in modo corretto la Cast respinge pertanto il reclamo conferma la squalifica ed ordina di incamerarsi la tassa del reclamo se Marco Petrocchi mi sposa il controricorso la tassa del controricorso gliela pago io vado io a parlare io ero il teleclonista vado con Gianni con Gio Stix Regini ci portiamo la registrazione del fatto che vedrete intanto sta scorrendo qui quando il servizio sarà completato al meglio da Enrico Milano poi ve la facciamo rivedere alla fine senza il mio faccio è chiaro? va bene? ok delibera depositata in data 21 ottobre 2024 registrata sotto la medesima data al numero 09 del registro del protocollo generale del CSAT della Toscana il segretario Fabrizio Tosi il presidente Carmine Compagnini il consigliere estensore Raffaello Nicolai allora questo è il effetto quello era il reclamo della Campese allora intanto metto fine al racconto adesso vi dico cosa ne penso con tutti i crismi della dell'educazione e del rispetto giudice del comitato regionale toscano lega nazionale direttante te vedi comunque il filmato che se lo vedi leggendo il ricorso della Campese e leggendo adesso quanto il il giudice ha detenuto fosse non avvalorato perché non si possono mettere le immagini a disposizione per quale motivo se mi dicono quale legge impedisce che una società che si vede sbusardata un referto gara penalizzato il proprio allenatore che è diffamato da essere entrato in campo aver messo le mani addosso a un arbitro e avendolo offeso qual è la legge che mi impedisce di portare le immagini a supporto sarebbe gradita una risposta ma ripeto giudicante tu vedi le immagini leggi quello che stai per emettere o hai già emesso quello che ho letto io e non ti vergogni di te stesso ma di che stiamo parlando l'abito racconta sbusiarda quello che è il ricorso della campese vorrebbe sbusiardare le riprese che rimangono in etinere in eterno a supporto di Cassinelli della campese e la giudicante non accoglie il ricorso della campese va bene voglio dire quando mi diranno quale legge impedisce di proferire di mettere a supporto le immagini di una partita dove avviene un fatto del genere o dove avverrebbe non è avvenuto mi dicono quale sia la legge ma ma voglio dire ci sarà una legge bene prendo nota però te giudicante vedi il filmato e ti accorgi che il tuo caro arbitro signor Pisano della sezione di Livorno ha scritto un referto che palesemente è falso perché sbusiardato dalle immagini di una televisione locale chiaro e non cambi opinione cioè tu non chiami scusi signor Pisani mi scusi ma sto vedendo le immagini di Edicola Elbana show trattino sport con la telecronica di Stefano Ballerini del match audace campese vediamo quello che è successo quello che è successo non è attinente per niente per nulla al suo referto gara che dunque è sbusiardabile cambia referto vuol vederlo mi vuole mandare un nuovo referto perché io devo cambiare la sanzione non avviene niente di tutto ciò anzi l'abito dice che il signor Gassinelli è entrato in campo per 20 mesi non è vero ma un passo e mezzo un metro e mezzo ma diciamo esagerare due due passi per poi tornare vedersi sventolare il rosso e uscire lì proferendo qualche frasina di troppo ma voglio dire vieni espulso per essere intervenuto richiamando l'attenzione dell'abito perché un proprio giocatore è stato travolto da Fusai capitano dell'audace su un giocatore della campese che era a terra rantolante gridando dolore colpito laddove era stato operato l'anno prima e nessuno interviene io sarei già arrivato al giocatore la spugna la bottiglia dell'acqua l'anestetico avrei fatto intervenire l'autombulanza voglio dire colpito alla testa arcata a sopraccigliare e l'arbitro aspetta secondi in memory per fischiare interrompere il gioco laddove c'è un contatto con la testa l'arbitro deve immediatissimamente subito in media presto interrompere il gioco allora giudicante non interviene l'arbitro dice sì addirittura a 20 metri mi ha rincorso mi ha messo la mano sulla spalla che poi è Giacomo Alloli tocca l'avambraccio dell'arbitro mai la spalla per cui è un'altra visione assolutamente differente insomma questo è un fattaccio il mio il mio allenatore io faccio l'addetto stampa della campese potete leggere su elbasport.com ribadita su tutto il pool dei siti delle testate giornalistiche che seguono lo sport urbano e dico l'Urbana sport show di Zio Stix Stefano Regini che mi segue io seguo loro e loro seguono me io faccio il telecronista per loro per il puro mio diletto e divertimento non prendo una lira non ho mai chiesto 5 euro a nessuno perché mi diverto a fare tutto ciò chiaro lo faccio da 50 anni seguo 20 sport mi intendo di 20 sport per cui lo posso fare bene allora questo è quello che io vi ho raccontato vi ho letto ricorso campese la bocciatura nel del ricorso da parte del comitato regionale DECA Toscana direttante di Firenze e Coverciano adesso vi faccio rivedere io concludo il collegamento lancio lancio l'intervista di Gianni Cassinelli realizzata questa pomeriggio quando sono entrato in possesso della bocciatura del ricorso lo chiedo gentilmente a Enrico Milano da regia remoto dopodiché interrompo vi saluto e vi rimando a domenica pomeriggio ore 15 sempre Portoferraio ahimè volevo andare a fare la campese che ospita la prima della classe San Vincenzo saluto l'allenatore Cugini con cui ci avevamo dati appuntamento mercoledì quando sono andato a San Vincenzo a fare il match di Coppa Toscana San Vincenzo 1 Audace Isola Delba 3 ok per cui il nostro nuovo appuntamento non avverrà perché l'edicola ha scelta di fare il derby elbano Audace Isola Delba Porta Azzurro per cui tutto questo il nostro weekend noi ci rivedremo dunque domenica in diretta dalle ore 15 www.edicola elbanashow.org nella sezione sport dove sabato faremo il calcio a 5 dell'elba 97 dove domenica a mezzogiorno andremo a dare in diretta torna il volley l'under 16 dal palazzetto dello sport elba volley allora io mi accomiato da voi lancio l'intervista di Gianni Gassinelli con cui chiudiamo tutto appena sarà chiuso tutto prima di cambiare canale rimanete con noi perché vi faremo riscorrere sullo screen le immagini del fattaccio e a commento rimanderemo senza il mio facciamo in mezzo l'intervista di Gianni Gassinelli che commenta purtroppo il ricorso bocciato della campese da Stefano Ballerini canale 187 Firenze Sport 1 sempre gestita da Tele Firenze Viola Super Sport dalla sua associazione e poi ovviamente duplicata da Edicola Elbana Show Trattino Sport di Gio Stix Stefano Regini è davvero tutto ci risentiamo lunedì notiziario Elbano di Firenze Sport 1 di Firenze Viola Super Sport i nostri canali YouTube e Facebook social dopodiché lunedì sera il consueto appuntamento riepilogativo di tutto da Edicola Elbana Show Trattino Sport di Gio Stix Stefano Regini io arrivo verso le 22.15 per completare al meglio l'informazione sportiva di 97.00 minuto qui all'Elba lavoriamo così può piacere non può piacere d'altronde all'Elba se non do io le notizie in giro nessuno segue lo sport Elbano perché qualcuno cerca un giornalista pubblicista gli si manda un curriculum di 7 pagine e nemmeno ti rispondono probabilmente casserò quell'indirizzo mail non gli manderò le notizie sportive diseducazione contro educazione o prendetela com'è per cui qualcuno continua a non pubblicare notizie in Tirreno gli ho mandato due volte il referto del match di Coppa Toscana San Vincenzo Audace Isola d'Elba 1-3 niente non c'è pubblicazione non gli interessa eventualmente benissimo non è un problema mando i comunicati di tutti gli sport e soprattutto di Campese Calcio Club del Mare di Maria di Campo e del Bano 97 la polisportiva calcio a 5 e volley femminile di Portaferraio di cui faccio gli addetto stampa ci metto un compendio a largo perché mi piacerebbe vedere tutte le testate giornalistiche che seguono tutto lo sport come viene seguito solo e solamente dal 2012 da ilbasport.com che tra poco arriverà in versione riveduta e corretta e riamodernata grazie all'amico Gramini di Firenze e soprattutto da edicola Albana Show trattino sport punto org di Zio Stix Stefano Regini con questo è davvero tutto scelgo la linea alla programmazione rimanete con noi riguardatevi le cose salienti di questo servizio che poi sceglieremo di mandare al comitato regionale e all'abito il signor Pisano veda il nostro servizio vada allo specchio si faccia la barba si faccia una domandina e si dia delle risposte adeguate ok è brutto vede scrivere referti arbitrali falsi non so se lui sapeva ma credo di sì che c'era un sito in diretta e una televisione la mia il canale 187 di Firenze Prato e Pistoia e Comune Limitrofi che dava la partita in diretta sulla terraferma lo sai scrivi un referto che faccio lo scrivo oppure scrivo un'altra cosa e poi magari dico scusate mi sono sbagliato ho rivisto le immagini ho detto bugie su bugie niente nessuno non ha fatto scena Gassinelli si deve puppare la squalitica fino al 5 gennaio 2025 tre mesi e quasi dieci giorni per cose non commesse hai detto due frasi al momento dell'espulsione in serie A c'è gente che manda palesemente coprendosi la bocca ma facendosi sentire l'abito a quel paese prende al massimo due tre giornate Gassinelli che si prende tre mesi e otto dieci giorni è un'esagerazione oltretutto non è stato vero nulla le immagini sbucciardano tutto pronto ad andare a testimoniare il fatto in comitato regionale se l'amico Marco Petrocchi mi dà il via per il contro reclamo sul reclamo non accettato non è un problema lo paga il basport.com Firenze e Viola Super Sport Stefano Balderini di suo pugno e di suo portafoglio non mi piace essere preso palesemente per il sellino punto a casa ci vediamo lunedì grazie buon weekend a tutti e forza a tutte le squadre e il Bane impegnate su più fronti grazie la linea Enrico Milano che vi compendia il tutto dopo il mio distacco grazie è tutto buon weekend Gassinelli bentornato dalla trasferta in Corsica poi mi dirai ci vorrebbe il tapiro di Staffelli per capire quanto è grande la delusione ho letto la sentenza della federazione mi sembra tutto vergognoso voglio dire va bene che la regola direbbe che tu non puoi usare il firmato a prova però il firmato si scagiona quelli della federazione dovrebbero guardarsi allo specchio e darsi un ceppone se mi permetto sì ci siamo rimasti un po' male anche noi perché comunque dal video dal filmato si vede bene che non è vero che entro in campo per 25-30 metri a brontolare ma lui che viene da me si vede bene che è il giocatore che si appoggiava sulla spalla insomma purtroppo è così peccato ci abbiamo provato la campese senza Gassinelli comunque ha ripreso a vincere arriva il San Vincenzo eliminato in Coppa dall'Audace la strada prosegue purtroppo c'è questa pagina nera io ero provato ad andare in federazione non l'avevo trovato quel giorno l'ha detto ci tornerò appena torno a Firenze mi farò sentire tanto mi conoscono ma sì ora vabbè ora c'è da pensare al San Vincenzo è sicuramente un'ottima squadra anche con l'Audace comunque ho visto anche la tua telecronaca ho visto che hanno avuto diverse occasioni da go ha fatto una buona gara lista quindi insomma sicuramente è un'ottima squadra se no non era prima ha preso solo due go ha perso una partita sola insomma sarà una gara molto difficile senti so che non c'è l'allenamento stasera vi trovate domani per fare con Fabulo per guardarvi tutti insieme e scendere in capo tutti concentrati ci troviamo domani per questo ok perfetto allora mi dispiace per tutto quanto avevo sperato che tutto fosse ricondotto in un'altra situazione sempre forza campese guarda sono venuto a te con la felpa campese che porto sempre con me allora ci vediamo prestissimo Gianni buon proseguimento saluta ragazzi ci vediamo magari domani per un brindisi grazie grazie ciao colpo di testa di Fusai colpo di testa di Fusai numero due poi non arriva Badalucchi rimane a terra un giocatore della campese accorre l'arbitro gioco interrotto e allora dall'ora di gioco sessantesimo audace isola ad elba uno campese zero pallo di Caldarera alle spalle di Diverti che aveva recuperato un calcio d'angolo un po' lungo da destra casa audace Diverti aveva vinto il duello alle sue spalle è arrivato Caldarera che lo ha spinto buttandolo a terra chi tampona sempre torto rigore audace realizzato da Fusai credo di capire espulso l'allenatore della campese per protesto